e quello anche per la ricerca del e il cuore del progetto tolleranza gli operatori guardavano visionavano le immagini e poi soprattutto potevano inviare le squadre anzi c'è più per velocizzare i tempi questa è la zona grazie passiamo un attimo con il parlamentare europeo e il presidente del consiglio del mito e poi andiamo su allora non saranno di fronte al pc perché saranno così la situazione grazie